è scattata l'ora solare ben trovati buongiorno in qualsiasi momento voi ci stiate seguendo ovunque voi siate come dico sempre mettetevi comodi molto comodi io dovrei fare una presentazione raccontando tante cose del nostro ospite invece vi dico soltanto che lui non è solo bravo è un bravissimo splendido straordinario grande attore Antonio Catania grazie grazie belle parole questo come si fa teatro anche allo stadio si fa così Antonio Catania lui quello vero non ce ne sono copie d'altronde in giro per nostra fortuna e anche perché verrebbero malissimo grande strepitoso attore ma grazie belle parole troppo forse troppo è soltanto l'inizio dobbiamo stare insieme un bel po' intanto per noi è un grandissimo onore averti mi ha autorizzato al tu anche se volevamo dire vos scienza voi in Sicilia eccetera una volta io sono antico infatti bello anche delle interviste che puoi recuperare delle vecchie storie cose dimenticate si va nel mondo qui di tornatore abbiamo tanto a dire tornatore salvatores sapete tanto teatro per questo signore ve lo ricordate ovviamente mediterraneo chi di noi non lo ricorda salvatores che incontra Antonio Catania proprio a teatro ma questa è un'altra storia a teatro però restiamo perché in scena c'è lo spettacolo se devi dire una bugia dilla grossa finalmente a teatro finalmente a teatro che doveva doveva essere per il centenario di Piero Garinei due anni fa infatti noi abbiamo cominciato due anni fa poi ci siamo dovuti fermare e quindi poi siamo riusciti a fare appena quattro rappresentazioni dopo due anni siamo ripartiti finalmente e abbiamo visto che anche la gente non vedeva l'ora non vedeva l'ora questo poi è uno spettacolo divertente un po' spensierato ne parliamo di un attimo maestro ti chiamano maestro? si mi fa ridere un po' no maestro perché per me maestro era il mio maestro quello di scuola quello che ho avuto quando stavo in Sicilia che era un tipo particolare che tipo era? era beh era lui si vestiva con una giacca inglese questo è qui un po' con una fascia qua aveva la riga in mezzo e gli occhialini era un po' Himmler sembrava aveva quel tipo di autorità quindi usava un po' la carota un po' il bastone insomma era allora si le mani giravano le mani giravano le orecchie tu eri un allievo nato attenzione ad Acireale che più come dire Sicilia di così stentiamo a riconoscere bambino vivace da subito no ma ero diciamo che la mia vivacità allora la imputavo a momenti sfortunati diciamo mi è andata male però capitava che succedevano dei guai io mi sentivo un bambino bravo buono però poi i risultati purtroppo contrastavano è il giornalino di Gian Burrasca che racconta le cose più terribili dicendo ma io solo volevo provare i fuochi d'artificio intorno al velo da sposa di mia sorella esatto non volevo dar fuoco e quindi ogni tanto succedevano delle cose però c'era mia zia e mia nonna che erano molto come si chiamavano la zia e la nonna? la nonna Grazia andavo voleva a fare la spesa portavo la borsa lei litigava sempre con tutti per 5 lire il peso prendevo una cosa gliela buttavo però quello gliela toglieva sai quelle cose la spesa come si faceva una volta e mia zia e mia zia vera vera venera perché venera era la patrona di Acireale e lei dava lezioni di piano pianoforte quindi c'era sempre questa musica in casa chi litigava per la spesa al mercato la musica sempre in casa era certo so a chi sto parlando però era una sorta di teatro costantemente a disposizione in ogni singolo momento della giornata era un tempo diverso anche soprattutto a livello di tempo di giornata c'era una maggiore socializzazione si viveva anche per strada mi ricordo noi eravamo diciamo un pochino più borghesi quindi stavamo al primo piano poi c'era il piano di sopra e il secondo piano lì ci stavano proprio i nobili e per strada invece c'erano i bassi c'era anche una scuola mi ricordo una maestra una maestra che aveva proprio i banchi per strada faceva lezione a bambini così che non potevano andare a scuola non so poi c'era il farigname c'era la sarta c'era si viveva era un teatro a cielo aperto sempre sempre in questo teatro qui ho anche la mia Natalia Castiglia oggi Natalia è andata in grande spolvero più che mai la vanedda la vanedda che cos'è la vanedda? il vicolo il vicoletto la vanedda io facevo la vanedda per andare a San Sebastiano San Sebastiano San Mastiano che era il secondo santo più importante che abitavo là vicino alla chiesa di San Sebastiano dove c'era il mio un mio parente che era prete pure quindi mia zia e mia nonna spingevano verso questa ti avrebbero voluto prete? sì seminario guardate che cos'è scusate tu dici chiesa siamo di fronte e quella è la vanedda famosa giravo di là e di fronte abitavo io nella via diciamo parallela via Pennisi e questo matriarcato meraviglioso a casa tua mia mamma era molto giovane mia mamma studiava cioè era magistrale io andavo a scuola con lei io facevo l'asilo e lei era magistrale posso uscire che sento piangere mio figlio che bella cosa e quindi lei era come una figlia lì in casa capito quindi lei studiava io stavo maggior parte mio padre dava lavoro così quindi io stavo maggior parte del tempo mia zia e mia nonna quando mi lasciavano dalla sarta attaccare bottoni e in un bambino che forse tu saresti stato anche un ottimo prete però noi siamo contenti che tu abbia deciso di fare l'attore sì ma sai le cose prete, attore e medico sono queste le tre professioni o poliziotto anche dipende anche quella è una professione i tre momenti no? sì importanti il piccolo Antonio Catania come decide che tutte quelle cose che vede tra Vanedda chiesa la spesa poi arriveremo anche a sette cappelli sappiamo tutto l'attore io voglio fare l'attore mi dai solo un'anticipazione poi ci fermiamo per un attimo l'opera dei pupi caro lei questo era lì c'era un grandissimo maestro questo Cavaliere Macri che era un grandissimo puparo e mia nonna mi infilava in questa arutta si chiamava la grotta perché era un teatro a forma di grotta frequentava l'opera nel senso che era un'opera solo che per gente così semplice c'era lo spazzino c'era le cose tutti poveri che andavano non potendo permettersi l'opera lirica c'era l'opera dei pupi ma la partecipazione era identica allora la partecipazione era identica e c'erano gli occhi attenti di questo bambino intelligentissimo che per nostra fortuna poi è diventato Antonio Catania ma noi vi raccontiamo tutto questo tra poco ci fermiamo solo per un attimo piccolo così Antonio Antonio Catania ci sta facendo questo regalo grandissimo averlo in studio con noi proprio qua 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 e non si vede ma c'è una migrazione di redazione stanno arrivando tutti per applaudire questo signore del teatro del cinema della fiction bravo 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 immensamente bravo è imbarazzante è imbarazzante ma io non vedevo l'ora ero sul partito stamattina con la rincorsa da casa gli dico tutto sono sempre stato un po' la tendenza a rimanere anche nelle fotografie quando ero a scuola stavo un po' mi si riconosceva perché avevo sempre lo stesso taglio di capelli andavo sempre lo stesso parrucchiere da bambino e quindi il taglio di capelli ti faceva riconoscere eravamo rimasti all'opera dei pupi e quindi a questo a questo amore e lì che scatta la scintilla beh lì è nato qualcosa diciamo che la Cireale la Sicilia in generale poi in quell'epoca l'abbiamo visto appunto con Tornatore Baria c'erano questi personaggi straordinari che facevano molto colore ma all'opera dei pupi c'era l'arte lì c'era l'arte Gabriel Macri faceva tutti i personaggi da Angelica Rinaldo Orlando tutti lui li faceva col microfono Oliviero dalle cose così un po' Oliviero cos'hai? Prince io sto per morire ma no oppure Orlando solo per questa spada appena ecco ordoio la Turlindana poi c'era la morte di Orlando che suonava l'olifante gli scoppiava una vena facciava uscire tutto il sangue dalla bocca con la pompetta tutto il sangue che usciva dalla bocca del pupo di tutta l'interpretazione di questo di questo uomo che era un vecchiettino che stava lì mentre gli altri muovevano i pupi e intanto il pubblico era così pendeva guardava questi pupi con le lacrime agli occhi quando moriva si creveva mamma mia coinvolti totalmente immedesimati qualcuno addirittura lanciava degli oggetti tegano corno ci credevano era vero accadeva quindi ti coinvolgeva proprio lì capito che si poteva far finta e coinvolgere la gente emotivamente con delle cose che non erano vere con un racconto e lì in qualche modo qualcosa è nato anche se dopo è successo tutto per caso ce ne è voluta di strada per arrivare a che accadesse tutto per caso però spostiamoci sette cappelli mettete l'asterisco ve lo raccontiamo tra un po' sette cappelli aspettate un attimo allora ci trasferiamo a Milano quindi il viaggio è lungo Antonio è diventato più grande e quel Orlando era conservato era conservato in un angolo e diventa questo tuo non solo amore ma talento a sposare il teatro tu sei il teatro anche quando sei al cinema anche quando sei nelle fiction sei il teatro sei beh diciamo come diceva Seneca il talento da solo non basta ci vuole l'opportunità l'occasione no? e la tua occasione quando è arrivata? la mia occasione è arrivata per caso con un amico che diceva ma io voglio fare questa scuola di teatro mi dai una mano a preparare una cosa facciamo insieme ho detto va bene poi ho visto questo ambiente mi è piaciuto tutto il movimento che c'era questo tutti questi ragazzi che credevano in un sogno no? e allora anche io ho partecipato mi hanno preso e ho cominciato a fare la scuola della Paolo Grassi a Milano che hanno fatto altri e lì poi un saggio di canto poi che era quello più ambito perché era quello più costruito il saggio di canto piuttosto di quello di recitazione c'era una brava insegnante e lì è arrivato Salvatore con Bruni che vogliono fare questa compagnia e ho cominciato a lavorare con loro è stato così detto così la facciamo semplice ma insomma comincia l'allineamento dei pianeti no? e Antonio tu ridi ma è così? beh sì e poi dopo dico c'è una cosa e poi dopo si fa lo spettacolo e poi nascono dei teatri il teatro diventa più grosso poi Salvatore di cinema cinema con Salvatore mediterraneo personaggio anche un po' personaggio mediterraneo di pazienza viene fuori da quell'opera dei Bumi e viene e questo ti volevo dire cioè plana dall'alto e riparte con una con una capacità come era quel film ma anche di di previsione eccoci qua ti vediamo il mediterraneo di previsione di previsione di quello che stava accadendo sarebbe accaduto e finisce per accadere sempre e qui create anche insomma qui ci sono degli amici che stanno recitando questo film da Oscar si si nasce una collaborazione molto costante con alcuni di loro no? quasi tutti adesso ho fatto l'ultimo film di Salvatore anche noi abbiamo riallacciato un po' questo discorso ma lì con Diego con Diego ho fatto tantissime cose poi no ci divertiamo molto improvvisare costruire si vede e faremo un film a giugno con Diego insieme siamo già in sala siamo già staccati il biglietto noi ci mettiamo sobriamente portiamo i viveri e vi aspettiamo una commedia diciamo natalizia però girata in estate perché c'è un un escamotale c'è un motivo si vuole fare a tutti i costi natale però perché la famiglia dice ah quest'anno salta la festa no la facciamo lo stesso d'estate d'estate quindi lo preparate lo girate a giugno e lo vedremo sì 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 a giugno penso di allora non so posso andare ovunque con i titoli voglio citarlo però quel pane tulipani di Silvio Soldini perché perché saranno sempre i pupi che di Acireale che tornano presenti ma tu riesci a creare quei personaggi che sono che sono tremendi talvolta sono tremendi il marito in pane tulipani è terribile terribile però mi volevano pecchiare fuori dal cinema ma lo fai così bene tu dici è che a me lo vieni a dire per forza come posso dire per questo dicevo prima teatro anche al cinema perché era quello che vedevi con Anna Magnani che era quello che vedevi con tutti i grandi perché bisogna essere convinti se tu sei convinto cioè il cattivo diciamo diciamo il personaggio negativo non simpatico ecco sì non simpatico deve essere deve credere di avere ragione cioè ci deve credere non è che è cattivo lo sa anche lui che è cattivo se no rivela subito lui deve avere le sue ragioni quindi in qualche modo diventa spiazzato dice ma forse ma forse poi capisci che non può essere però gli devi portare l'acqua un po' al tuo mulino deve essere in modo che venga fuori il motivo per cui lui è così lui è così perché per tanti motivi diciamo culturali abitudine abitudine antica regola mancanza di sensibilità poi se vai a vedere ci possono essere anche dei risvolti no deve andare proprio a fare la psicanalisi del personale più lontani più lontani però quando tu fai fiction e ne hai fatta e ne fai tantissima di fiction il giudice Mastrangelo ho sposato uno sbirro Agatha e Ulisse con cui hai vinto il premio come migliore attore tv movie fiction fest di Roma squadra mobile tra l'altro nomination al Davide Donatello per ma che colpa abbiamo noi quindi ripeto dobbiamo non fare notte perché se no se iniziamo a fare tutti i suoi premi facciamo notte e sempre con questa caratteristica Antonio anche dei generi così diversi un conto è applaudirti a teatro un conto è vederti in un film un conto è vederti in tv e la tua cifra è sempre quella no? sì qual è la mia cifra una cifra altissima eh sì diciamo nasce da una piccola follia forse un piccolo modo di vedere di interpretare la realtà sempre con un risvolto ironico con un guardare un po' oltre quello che c'è sul foglio no? e quindi la possibilità di costruire qualcosa di imprevedibile e questo è il bello anche del nostro lavoro che tu hai un personaggio e non sai questo personaggio dove ti porta anche se poi è tutto scritto che può avere anche delle chiavi che neanche io mentre lo faccio so però arriva una cosa che meraviglia però quello mi piace molto però deve avere ovviamente dei compagni di lavoro straordinari che sono sempre stati sia Diego che Bentivoglio piuttosto che Claudia Mendola Flavin Sina persone che comunque stanno al gioco ti rispondono e tu rispondi a loro registi che capiscono che ti lasciano quello spazio ti consigliano ti aiutano sì è un tutt'uno che però messo tutto quanto insieme poi dà questo questo risultato i tuoi genitori quando hanno capito visto la tua mamma che salutiamo Olimpia anche un bacio signora le mandiamo e tuo pa si chiama Salvatore vero? cosa hanno detto ad un certo punto di questo figlio che è andato da tutt'altra parte abbiamo saltato tutto quello che tu avresti voluto fare sicuramente non hai fatto il sacerdote sicuramente non hai fatto il medico non hai fatto il laureato in giurisprudenza non hai fatto niente di tutto quello che avresti pur avendo iniziato a fare medicina all'università pur avendo iniziato a un certo punto che hanno detto? ma sorprendentemente mio padre che poi un uomo un po' all'antica era si è come dire reso conto che quella era una strada che io avevo scelto a volte sai quando uno sceglie una cosa è già importante scegliere quindi hai un'idea su quello che vuoi fare questo è grandioso io spero che mio figlio quello piccolo ci arrivi prima o poi quello grande l'ha fatto già lo piccolo ancora a 13 anni mi piacerebbe che lui trovasse una cosa che lo entusiasma per dedicarsi a quello e che vuole fare per cui mio padre ha detto ok vuoi fare quello benissimo fallo li ringraziamo ancora per quel fallo perché poi automaticamente signori ne beneficiamo noi quando noi siamo a teatro ci torniamo tra un attimo quando noi siamo al cinema ma quando ci commuoviamo ridiamo e pensiamo è perché abbiamo un grande attore davanti anche per me è stato importante perché mi ha aiutato prima a superare tutte le mie timidezze eri uno timido sì diciamo questa cosa è nata quando sono andato a Milano il passaggio dal sud passaggio duro è stato abbastanza duro allora Milano era una città molto chiusa quindi lì mi sono trovato in difficoltà poi questa cosa mia invece mi ha ributtato fuori tutto quello che avevo dentro e quindi quella è stata utile per me io lo consiglio il teatro a tutti terapeutico assolutamente certo poi insomma è terapeutico ma se vado io un conto se fai tu un altro però chissà quanta gente che ha talento e che potrebbe farlo soltanto perché fa un'altra scelta non la vediamo appunto la scelta 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 la scelta che oggi Antonio Catania ha fatto di dedicarci questo tempo ci rende profondamente felici si vede si si vede ci fermiamo soltanto per un attimo torniamo non è un sequestro di persona ma lo troverete ancora qui a tra poco Antonio Catania nome con un applauso dunque il teatro che si è una terapia fa bene eravamo a Milano eravamo in giro per tutto il mondo Oscar incluso torniamo in Sicilia perché? perché parlavamo di Sette Cappelli all'inizio quindi Antonio ritorna bambino e ritorna ragazzino chi era Sette Cappelli? era un personaggio allora noi bambini vedevamo questo gigante in canottiera questi muscoli un uomo fortissimo grosso quando c'era bisogno di spostare una macchina lui la sollevava così era un uomo di fatica aveva una cicatrice durante la guerra quindi era un po' quello che si chiama scemo di guerra e lui aveva costruiva questi carretti con i cuscinetti a sfera queste cose qui con le corde poi saliva sopra scendeva spostando la corda caricava i bambini tutti quanti tutti scendero era adorato dai bambini lui adorava i bambini quindi poi trasportava le cose dalla stazione perché sette cappelli perché aveva sette cappelli di feltro uno sull'altro uno dentro l'altro si aveva questi cappelli quindi lo chiamavano annunzio sette cappelli ma la cosa straordinaria di quest'uomo che ha accompagnato l'infanzia di questi bambini facendo rigiocare se li metteva addosso così era che quando è morto praticamente si è scoperto che era un artista straordinario lui costruiva dei pupi soprattutto Orlando con il fil di ferro attorcigliato così erano alti quindi pensa quanto pesava la spada tutto col fil di ferro una pazienza erano cose enormi ma bellissime bellissime per cui vedi anche un personaggio così di strada così preso anche in giro da tutti è un grande artista grande maestro anche lui e c'erano altri personaggi c'era Ciccio Pernacchia che ovviamente tu gli dicevi a pagamento faceva le Pernacchie c'erano tanti e quel mondo che ti dicevo prima di Tornatore no? un baria che raccontava tutto Ciccio Pernacchia sono ricordi secondo me che poi si perdono oggi i ragazzi non possono avere di questi ricordi mi dispiace molto senti oggi i ragazzi non possono avere mettiamo un altro asterisco stiamo correndo sulla scuola che Antonio Catania ha deciso di aprire e di regalare nella sua terra a tutti quei ragazzi che non possono avere quegli stessi ricordi la terra la Sicilia che è madre bellezza amore e cura tutte queste cose insieme fanno lei che ha deciso di mandare una cartolina ad Antonio Catania lei ciao Paola ciao Antonio guarda è stato veramente un grande piacere incontrarti sull'ultimo film perché sei veramente una persona fantastica speciale che rendi tutto bellissimo e poi noi qua siamo due grandi fan tuoi io e mio marito ciao Antonio ciao Paola raramente ci troviamo d'accordo su qualcosa confermo e tu sei un nostro punto in comune confermo anche questo ciao Paolina ciao Antonio ti mandiamo ti mandiamo tanti baci e spero di rivederti prestissimo ciao ciao Paola Maria Grazia io puro insomma lei un PM io magistrato insomma siamo nella legalità diciamo siamo rimasti siamo nella legalità invece non è legale dire bugie ma nuova messa in scena di Luigi Russo regia originale di Pietro Garinei se devi dire una bugia Dilla Grossa abbiamo anche qui un'altra cartolina per Antonio Catania signori qua le poste con noi lavorano prego ciao pensavi di esserti liberato di me no no sono ancora qui senti volevo dirti che sei un compagno stupendo che mi diverto tanto mi piace recitare con te e che spero dopo la bugia di fare altri spettacoli con te perché mi ci trovo benissimo sì ma non tardare adesso io sono già qui al teatro sbrigati allora Maria Grazia Cucinotta Paola Quattrini ti vogliono bene tutti beh sì Bene Grazia Cucinotta un'attrice un simbolo ormai no una sicilianità in persona veramente la bellezza la dentro e fuori la grandiosità della Sicilia mentre Paola Quattrini che è una fantastica compagna ha un'energia impressionante fantastica compagna di lavoro che ormai frequento tutti i giorni certo abbiamo si aspettano di sabato facciamo sempre due e quindi è un piacere lavorare con lei che ha sempre fatto poi questo personaggio sempre nella storia di questo lavoro continua a interpretare siamo noi che finiamo tutti ma lei continua allora fino al 10 aprile al Teatro Manzoni di Milano a seguire Genova Politeama fino al 13 aprile e poi Faenza Gorizia e Trieste una abbiamo detto della tua scuola di teatro ma se tu me lo permetti ci ritorneremo quando tu tornerai a trovarci certo mia moglie ha fatto molto per questa scuola è lei che ci sta lavorando e penso che sia giusto comunque ridare alla Sicilia un po' di quello che la Sicilia ha dato a me in tutta forma anche di un sogno che puoi far condividere con altri ragazzi che non hanno vissuto Nunzio Sette Cappelli Ciccio Pernacchia esatto non hanno vissuto quel teatro che era naturale me ne infilo io i cappelli gli creo un ricordo allora Antonio Catania avevamo un'ultima fotografia che riguarda i suoi cani vorrei farla vedere perché 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 poi ci sono grandi amori no? grandi affetti sì ecco ti qua con i tuoi con i tuoi ragazzi questi erano i cuccioletti di di un cane che purtroppo non c'è più adesso e anche questi non ci sono perché ne abbiamo poi dati questi piccoli cihuahu che erano veramente molto affettuosi e se tutte le volte ti separi è un dolore è un dolore vero no? sia quando ci siamo separati mia moglie è sempre pianto ogni cane dato perché non ne avevamo due quindi un terzo diventato avete anche questo pregio amare gli animali ha un difetto ce l'avete Antonio Catania è l'unico momento in cui non gli abbiamo creduto difetti zero grazie di essere stato con noi grazie infinitamente grazie vi portiamo in viaggio 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 perché entro sempre con le mani davanti alla telecamera un regista santo che mi sopporta da anni guardate sì viaggiare evitando le buche più dure senza per questo cadere nelle tue paure gentilmente senza fumo con amore dolcemente viaggiare rallentando per poi accelerare con un ritmo fluente di vita nel cuore gentilmente senza strappi al motore e tornare a viaggiare e di notte con i pari illuminare chiaramente la strada per saper dove andare con coraggio gentilmente gentilmente dolcemente viaggiare dall'indipidio allora non sono due attori scelti meravigliosamente da uno sceneggiatore un regista in gambissima di un film di Hollywood sono veri sono davanti a me Veronica Milano e Francesco Di Blanca coppia nella vita e nei viaggi positivi trip che siano positivi dei sorrisi meravigliosi adesso che sentite la storia ve li porterete a casa allora ben arrivati grazie grazie di essere con noi allora Francesco è la mia roccia la persona che vorresti avere sempre al tuo fianco Veronica è la mano destra di un pilota alcune volte troppo frettoloso ha tutto quello che manca ad uno con il carattere come il mio cuoricioni 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 cuori a volontà e voi direte si saranno incontrati giustamente amando a viaggiare tutti e due si saranno incontrati in un aeroporto quando vi siete incontrati e dove? non era esattamente un aeroporto era una scuola media un istituto di scuola media sì eravamo proprio piccini piccini voi siete di Catania esatto Catania praticamente quasi vicini di casa esatto sì praticamente sì siamo cresciuti insieme si può dire ci siamo conosciuti a dieci anni e da lì la nostra strada si è fatta avanti insieme quindi primo grande amore a dieci anni dichiarati a 14 15 15 e da lì e da lì sempre insieme esatto sempre e sono meravigliosi uno riguarda come una cosa giustamente rara e bella come succedeva forse un tempo si diceva e invece come succede perché poi ti innamori e accade capaci di essere come dire veramente l'uno a forza dell'altro anche nelle no nelle difficoltà chiaramente non è facile un rapporto di questo tipo richiede molto impegno richiede voglia di farlo funzionare ci vuole veramente quella pazienza allora ci vuole quella pazienza perché i due non solo si adorano e si vede proprio guardate credetemi qui c'è ci sono mancano i palloncini a forma di cuore che volino per lo studio ma si troverebbero poi di fronte alle telecamere e quando avete deciso io cerco di sintetizzare ma che il viaggio sarebbe stata la vostra vita guarda più o meno quando avevamo vent'anni noi abbiamo attraversato un periodo particolarmente movimentato dalla nostra adolescenza perché amavamo la Sicilia la amiamo tuttora è la nostra isola e siamo legatissimi ad essa però sentivamo che volevamo di più dal nostro percorso chiedevamo di più alla nostra vita sostanzialmente quindi ambivamo avevamo questo sogno di vedere se riuscivamo a fare effettivamente qualcosa di più quindi ci siamo trasferiti inizialmente da prima siamo andati a Milano siamo andati a lavorare a Milano abbiamo ricreato un percorso però anche lì volevamo ancora qualcosa di più tu direi non siete mai contenti in realtà quella è stata la chiave che ha proprio innescato questa voglia di fare di più e quando avevamo circa ventiquattro anni siamo andati abbiamo fatto dei grandi viaggi delle grandi esperienze all'estero che ci hanno un po' aperto gli orizzonti voi avete lavorato e studiato siete stati capaci di attraversare qualsiasi mare in tempesta assolutamente ci abbiamo provato quanto meno perché era quello che ci serviva in quel momento per superare le difficoltà del momento in cui vivevamo e avere il cambiamento perché era quello che cercavamo non si ottiene nessun cambiamento senza sacrifici e quindi sapevamo che dovevamo fare qualche sacrificio in più e quel sacrificio oggi ci ha portato a fare comunque un lavoro che amiamo tantissimo a stare sempre in giro per il mondo ed oggi i viaggi sono diventati proprio il nostro lavoro e Francesco ti sei perso un istante fa non te lo sei perso perché è stato insieme da una vita lo sguardo che ti stava dedicando Veroni cioè proprio sapete quando uno dice ti mangio con gli occhi che è amore al cento per cento allora sapete quando si dice faccio il biglietto di sola andata vuoi viaggiare? sì faccio il biglietto di sola andata noi fra un istante vi raccontiamo come no possiamo continuare fra un istante nel senso stavo dicendo che lo racconto in questo momento perché ogni tanto io mi perdo un po' scusatemi poi quando si parla di innamorati sono così sensibile e loro hanno deciso di fare un biglietto di sola andata destinazione? Prima a Inghilterra poi a Australia entrambi di sola andata ci abbiamo preso gusto entrambi di sola andata esatto passi in Inghilterra che voglio dire è ancora abbastanza vicina parliamo di otto anni fa quindi comunque per noi è già un salto un salto ulteriore migliorare la vostra lingua chiaramente avere quel passaporto che è l'inglese che ci fa girare il mondo e poi l'Australia esatto poi quello è stato diciamo il salto più grande più lungo più impegnativo è parecchio è molto lontana infatti quando l'abbiamo raccontato quando l'abbiamo detto alle persone a noi vicine ci hanno detto no ma non è possibile che andate lì gli amici ci dicevano eh? dove è l'Australia? stavo dicendo terra dei canguri la fotografia supporta in pieno la mia tesi Australia terra meravigliosa ma uno dice in Australia perché? ecco veniamo al vostro lavoro sì diciamo che lì era tutto un processo di crescita stavamo sviluppando di più il concetto di quello che avremmo voluto da grandi fra virgolette l'Australia in particolare perché avendo fatto un anno in Inghilterra avevamo avuto modo di imparare l'inglese di prendere un po' confidenza con la realtà all'estero volevamo fare quel qualcosa di più che ti dicevamo poco fa quindi cercavamo se da qualche parte nel mondo c'era qualche esperienza che stava aspettando di essere vissuta in effetti l'Australia si è confermata l'esperienza perché abbiamo vissuto qualcosa di inspiegabile che è stato veramente enorme due anni a bordo di un van che abbiamo costruito con le nostre mani si era visto un po' nel video di prima e l'abbiamo reso una mini casa su quattro ruote dove c'era tutto quello che ci serviva per vivere avevamo tutto il necessario quindi fornelli due cuori e un van cosa ci chiede di più dalla vita lo vediamo elettricità fornelli acqua tutto il necessario per fermarsi davanti alla spiaggia allora fantastico Veronica ma tutto questo perché voi vedendo il mondo lo volevate fare vostro per raccontarlo a una persona come me esatto che in Australia non c'è stata mai esatto diciamo che tutto era nato proprio dall'Inghilterra quando molti amici familiari ci chiedevano ma com'è vivere da quelle parti come faccio ad andare lì cosa devo vedere ed è lì è nata la nostra idea di raccontarlo dapprima con un blog quindi un sito dove mettevamo scrivevamo questi articoli e poi abbiamo aperto la pagina Instagram a tutti i social e tanta era la curiosità di capire come fare ad andare in un posto così lontano come posso fare anche io anche perché noi ci siamo innamorati di questo paese dove potevamo tranquillamente vivere e si vedeva il nostro entusiasmo e quindi molti volevano appunto avere questi consigli e capire come potevano fare a loro volta per prodare lì allora non è che loro abbiano staccato il biglietto della lotteria e abbiano fatto il giro del mondo nulla di male per carità questi due meravigliosi ragazzi a cui la volontà di lavorare non ha mai fatto difetto insieme a quella di voler continuare a studiare e a capire voi avete lavorato tantissimo non solo facevamo lavoretti occasionali in base a quello che succedeva ma addirittura in Australia per estendere il visto loro hanno una procedura molto intelligente che gli permette di sfruttare la mano d'opera dei ragazzi che come noi vanno lì a viaggiare a fare esperienze e allo stesso tempo manda avanti l'economia australiana quindi si raccolgono si raccoglie la frutta il lavoro nelle farm e quindi abbiamo fatto mesi e mesi raccogliendo mandarini pomodori lattughe lattughe un aneddoto particolare ne avrete milioni vabbè a parte quando abbiamo visto il ragno più velenoso in Australia che è piccolino così è veramente bellissimo come ragno piccolino posso anche non vederlo volendo però piccolo e molto velenoso sì sì assolutamente concentrato però era una di quelle sì ma anche sugli alberi si vedevano di quei ragni enormi grandi come mani molto grandi e in Australia quando vedi un ragno hai paura anche se è il ragno più tranquillo che sai che non ti fa niente però intanto hai paura gli farei paura pure io un ragno dice guarda hai qualcosa su due zampe però perché è tutto grande sì lì è tutto grande lì è tutto grande è grande anche il cuore delle persone o il cuore vostro nell'essere no ha anche ingrandito i nostri di cuore perché l'approccio che ha l'australiano medio o comunque la cultura australiana li porta ad essere friendly come dicono loro molto amichevoli sono tutti a portata di mano sono pronti ad aiutare anche quando paradossalmente non lo chiedi e questo è uno degli aneddoti che ci è successo quando eravamo fermi a bordo strada perché stavamo consultando le mappe non sapendo dove andare ci busta questo signorotto noi tutti sulla difensiva avete bisogno di qualcosa ragazzi siete rimasti in panne col mezzo vi chiamo un meccanico noi eravamo tipo congelati no? perché normalmente c'è una diffidenza da parte nostra certo uno scetticismo che ci porta un po' a non fidarci del prossimo mentre lì è completamente l'opposto lì ti aspetti già il bene e poi Francesco è il fatto che credo viaggiando ci si renda conto veramente di essere tutti insieme sì assolutamente condominio mondo sì sì si diventa un tutt'uno diventa un tutt'uno ovviamente Indonesia Malesia Thailandia una vita completamente immersa nella natura abbiamo anche visto un cuccioletto di cane prima ci intrattenevamo su discorsi relativi ai gatti viaggio positivo blog canale YouTube Instagram fotografia nelle mani di Veronica che mi dicono essere mi dicono essere vediamo anche i risultati qui siamo in Thailand credo in Thailandia questa è Indonesia Indonesia ho subito azzeccato questa è Bali come si vede che è mai stata da quelle parti e invece i video sono questa è Thailandia questa però è un capolavoro rimani ore a guardare una fotografia così e invece i video nelle mani di Francesco corretto quindi partiti dalla vostra scuola media di Catania voi ci aiutate a capire che questi viaggi si possano fare? sì cerchiamo di essere utili più che altro perché diciamo cerchiamo di concentrare le informazioni i prezzi itinerari le idee per dare spunti all'appassionato di viaggi che magari vuole andare da qualche parte e si confronta con quello che abbiamo visto allora voi finito il finito diciamo quando il lockdown più pesante più forte più importante è terminato perché posso immaginare quanto sui viaggiatori perché voi siete quella materia antica che sono i viaggiatori da sempre cambiano i vestiti cambiano gli abiti ma quello è ecco voi avete ovviamente anche patito a maggior ragione poiché questa è la vostra vita e del vostro lavoro avete patito di più qual è stata la prima meta? appena finito il lockdown abbiamo fatto sì abbiamo fatto tanti viaggi in Italia che bello ne abbiamo approfittato è stato anche bello perché abbiamo diciamo avuto la possibilità di approfondire delle zone che noi stessi magari nei confini nazionali non conosciamo abbastanza bene da dargli il giusto valore che meritano quindi perché no se possiamo essere promotori del nostro stesso paese siamo super felici abbiamo i suoi posti meravigliosi perché questo è poi no alla fine tu giri il mondo viaggi e poi ti scordi magari che dietro a casa tua c'è la cosa più bella esatto da vedere come andando a scuola come si chiama questa scuola media di Catania? era a San Pietro Clarenza non mi ricordo come paesino proprio nel no il nome della scuola credo Vittorini Elio Vittorini ecco appunto non sanno non si ricordano niente del nome della scuola di dove la scuola fosse ma a un certo punto si sono ricordati che insomma stai ti sei innamorato a dieci anni ti sei dichiarato a quindici ma sta proposta di matrimonio la vogliamo fare? come possono fare una proposta di matrimonio due così? come? voi credete nella maniera regolare? no così e ve la proponiamo pronti amore? ma io ero già pronto da prima sì certo adesso la colpa è mia guarda guarda quello che lei sa è che stiamo andando a fare un video di Taormina per raccontare un po' un itinerario in Sicilia quello che non sa è che le ho organizzato tutta una serie di sorprese super romantiche che colmineranno con la proposta di matrimonio prego dopo di lei grazie isola bella però amore tu sei più bella non me l'aspettavo questa eh? amore perché sei sulla barca se la grotta delle sirene è lì? mamma mia che bella cosa no no Francesco non piangere non piangere non solo i battiti cardiaci e 360 le lacrime è stato difficile sono rovinata io ho provato a non piangere per tutta questa durata è stato difficile ti giuro complicato sono tipo emozionabile io facilmente è meraviglioso che invece lei un generale asburgico non è vero un sorriso che Audrey Hepburn aveva un sorriso bello così grazie ma insomma te lo aspettavi? avevo intuito qualcosa perché lui nei giorni precedenti mi aveva fatto delle sorprese a casa con altri regali mi impuzzava un po' la storia oltretutto devo dire non è la prima proposta che mi fa tanti anni fa ce n'era stata un'altra semplicemente per motivi familiari poi non siamo potuti andare avanti e invece adesso si spera riusciremo a concretizzare la cosa quindi un pochettino diciamo si era fatto sgamare ecco positivi trip andate su youtube non usate youtube signore chiedete a vostro nipote di portarvi su youtube di andare su instagram di vedere la bellezza di questi due ragazzi che si adorano Veronica e Francesco noi abbiamo messo un particolare la loro vita è stata molto in salita ad un certo punto per questioni familiari perché non non scegliamo noi quando le difficoltà familiari ci vengono incontro loro coraggiosamente le hanno affiancate supportate e superate insieme quindi si potete innamorarvi di questi due di Francesco e di Veronica come abbiamo fatto noi ce le mandate le immagini del matrimonio assolutamente a parte che vi seguiremo ovviamente sui vostri canali però questa è casa vostra grazie grazie Paola un piacere ok adesso li metto tutti e due in un cestino di vimini e così così me li porto a casa grazie a tutti grazie a tutti belli 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 grazie a tutti